Benvenuti amici di TecAndroid.it, come potete vedere siamo in compagnia di due smartphone, uno diciamo smartphone, più che altro un mini-fablet, si tratta del Nexus 6 e dell'iPhone 6. Andiamo a effettuare un confronto tra i due terminali che hanno segnato una svolta per entrambe le aziende, Apple in un caso e Google con l'aiuto di Motorola naturalmente, nell'altro. Il confronto tra questi due terminali, più che sulle caratteristiche tecniche, che naturalmente andremo a vedere, a spulciare, almeno dal punto di vista generale, perché poi quelle nel dettaglio le abbiamo analizzate e viste durante le rispettive recensioni. Dicevo, più che il confronto tra i due terminali sulle caratteristiche tecniche, va fatto sulle scelte che hanno portato le due aziende a realizzare i due dispositivi. Infatti in entrambi i casi si ha una svolta, diciamo così, usando un parolone anche epocale, sia per quanto riguarda Apple, che porta per la prima volta una dimensione maggiore del display dai 4 classici pollici di casa Apple con l'iPhone, ai 4,7 pollici dell'iPhone 6 e addirittura ai 5,5 dell'iPhone 6 Plus. Google invece dal canto suo ha realizzato un Nexus 6 che ha un po' spiazzato tutti, sia per le dimensioni del display che arrivano praticamente a 6 pollici per la precisione, sono 5,96 e per il fatto che dotando il Nexus 6, quindi l'ultimo nato in casa Google, di caratteristiche tecniche di altissimo livello, ha portato ad avere anche un prezzo del Nexus molto elevato, quindi quasi praticamente alla pari, un po' meno in realtà, dell'iPhone 6, siamo intorno ai 600€ nella versione da 32GB, un po' più di 600€. 649 per la versione da 64. Quindi questo ha spiazzato sia per le dimensioni ma sia per il fatto che in genere i Nexus sono sempre stati caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo eccellente, cosa che invece appunto in questo caso non si è vista. Per quanto riguarda le specifiche tecniche andiamo a vedere un po' nel dettaglio le dimensioni, anche se, ripeto, sono giusto per dare un'informazione perché è chiaro che sono due dispositivi che si collocano in fasce differenti, il confronto è più un confronto di scelte delle varie case, delle due case per la realizzazione di tali dispositivi. Comunque, le dimensioni dell'iPhone le conosciamo, abbiamo visto da poco la recensione e le nostre considerazioni, che sono di 138.167 per uno spessore di 6,9 mm. Quelle del Nexus 6 sono veramente esagerate, cioè la dimensione in altezza è di 159.26 per una larghezza che poi, come visto anche nella recensione, è quella che dà il maggior problema probabilmente nell'utilizzo con una mano, è di 82.98 per la decisione, quindi diciamo 83 mm, per uno spessore di 10 mm nel punto più spesso, perché poi è dotato di una rastrematura, quindi che gli conferisce un profilo con uno spessore maggiore al centro e che va riducendosi verso le estremità. I pesi naturalmente pur sono differenti, abbiamo 129 grammi per l'iPhone, 184 per il Nexus 6. In entrambi i casi non abbiamo LED di notifica, ma questo è poco importante per quanto riguarda il Nexus, che come sui Motorola ha il display che si illumina, si attiva la notifica solo quando arrivano le notifiche. Per quanto riguarda i chipset abbiamo il Qualcomm Snapdragon 805 per il Nexus 6 e l'Apple 8 per per l'iPhone 6. Qualcomm Quad Core a 2,7 GHz e il Dual Core a 1,4 GHz per l'Apple. La GPU Adreno 5 420 per il Nexus, abbiamo 3 GB di RAM con tagli di memoria da 32 e 64 GB, 3 GB, 13 megapixel la fotocamera posteriore con doppio flash LED e una batteria da 3220 mAh. Per l'iPhone 6 invece abbiamo una GPU Power VR, 1 GB di RAM, 16 e 64 e 128 GB i tagli di memoria e una fotocamera posteriore da 8 megapixel con una batteria da 1810 mAh. Apple ha per la prima volta nella sua storia, come detto all'inizio, portato le dimensioni del display, la diagonale del display a 4,7 pollici e con l'introduzione poi del primo phablet della storia di Cupertino con l'iPhone 6 Plus per invadere il mercato cinese, infatti dove è andato molto bene. Google come detto invece ha spiazzato un po' tutti con questo dispositivo che più che un phablet si può definire un mini tablet, date le dimensioni e vi assicuro che utilizzarlo con una mano è praticamente impossibile, anche perché non è dotato di alcun tipo di software, per dire come ad esempio nel caso dei Note 3 o 4, diciamo alcun tipo di software che facilita l'utilizzo con una mano. Oltre questo ovviamente c'è da dire che anche il prezzo del Nexus 6 è aumentato, praticamente raddoppiato rispetto a quello del Nexus 5. Non c'è dubbio quindi che in quanta maneggevolezza l'iPhone 6 la vince a mani basse rispetto al Nexus 6, che ha delle dimensioni esagerate soprattutto come detto in larghezza e il suo utilizzo con una sola mano praticamente è pura utopia. Per quanto riguarda invece la filosofia della memoria, cioè in quanto non è espandibile in entrambi i casi, abbiamo praticamente una filosofia che è molto simile in entrambi i casi. Anche se sembra un'assurdità, in realtà i due dispositivi, ripeto per concetto, per filosofia, si somigliano molto più di quanto non si voglia credere, nel senso che entrambi hanno una memoria non espandibile, entrambi hanno una batteria non removibile, entrambi sono molto legati, ovviamente rispettivamente, alle proprie case costruttrici, quindi Google ovviamente tende a riempire molto di proprie applicazioni il proprio dispositivo, ma non solo, tutto il sistema operativo Android, anche con le altre case che producono i dispositivi smartphone. Così come iOS, che poi è un'esclusiva solo di iPhone, è molto legata, e questo forse è probabilmente uno degli aspetti negativi dell'iPhone, troppo legata ad iPhone, che è iTunes ad Apple. C'è da dire però che il taglio di memoria, al minimo, per il Nexus 6 da 32 GB, quello per l'iPhone 6 da 16, invece quello da 32 è stato eliminato, come sappiamo, con una politica abbastanza sporca da parte di Apple, eliminando il 32 GB, obbliga praticamente all'acquisto del 64 GB un esborso maggiore di soldi, in quanto quello da 16, a meno che non lo usiate proprio veramente solo per telefonare e mandare un messaggino, si riempie come se fosse niente. Il vero tallone di Achille dell'iPhone 6, oltre alla memoria molto scarsa del 16 GB, perché in realtà poi sono 12 quelli a disposizione dell'utente, è la batteria, batteria che è da 1810 mAh sull'iPhone 6, che dura veramente pochissimo. Se non utilizzate molto molto poco il dispositivo, potete anche arrivare in serata, in serata presto, torno alle 20, diciamo, proprio lo dovete usare minimamente. Per quanto riguarda invece Nexus 6, la durata della batteria ovviamente è praticamente il doppio di quella presente sull'iPhone, però è anche vero che sul Nexus 6 abbiamo un display AMOLED QHD, quindi con una risoluzione 2560x1440, a differenza dell'iPhone, dove invece la risoluzione è poco sopra quella HD, quindi il consumo è decisamente anche inferiore. Però comunque ovviamente la durata della batteria del Nexus 6 supera, raddoppia tranquillamente quella dell'iPhone 6. Per quanto riguarda il comparto fotografico, anche da questo punto di vista devo dire che la scelta dell'utilizzo, per la prima volta, diciamo, ho visto finalmente su un Nexus una fotocamera degna di questo nome. In entrambi i casi comunque si tratta di fotocamere che hanno 8 megapixel per l'iPhone, 13 per il Nexus 6, diciamo, dicevo, in entrambi i casi si tratta di fotocamere molto molto scarne, con poche possibilità di variazione. La possibilità di realizzare video in Full HD e in Ultra HD per il Nexus 6, solo in Full HD per l'iPhone 6. Poi abbiamo come possibilità la photosphere, panoramica, sfocatura obiettivo e poi ovviamente i video. Qui sull'iPhone 6 abbiamo la possibilità di realizzare moviola, timelapse, video in Full HD a 30 o a 60 fotogrammi per secondo. Devo dire però che le immagini realizzate con il Nexus 6 sono veramente di un altro livello, assolutamente non c'è minimamente paragone con quelle dell'iPhone. Per quanto riguarda poi la parte telefonica e la connettività, diciamo, la connettività in pratica è analoga su entrambi, entrambi hanno modulo LTE, GSM, GPRS, HSP Plus, eccetera, eccetera. Diciamo, qui se si abbattono alla pari non c'è dubbio che siano entrambi dotati di connettività, di tutte le ultime connettività Bluetooth 4.0, 4.0 eccetera. Quello invece di cui volevo parlare è la parte telefonica in cui entrambi la capsula auricolare tramite le cuffie in dotazione per l'iPhone, invece non in dotazione per il Nexus, la qualità delle chiamate è veramente ottima. Devo dire che per quanto riguarda il segnale, la potenza del segnale ho notato che su, con la stessa nano SIM, entrambi montano a nano SIM, sul Nexus 6 il segnale è leggermente più potente che sull'iPhone 6. Per quanto riguarda poi l'audio, invece, è veramente potentissimo, nonostante la qualità dello speaker di sistema di cui ho già parlato nella recensione per l'iPhone 6, per il Nexus 6 l'audio, ci sono due speaker frontali, è veramente qualcosa di strabiliante, potentissimo, anzi, attenzione a non avere il volume troppo elevato se utilizzate il Nexus 6 perché veramente vi stonate con l'audio che è scelta dalla capsula auricolare, anche con le cuffie, sempre molto pulito e potente. In conclusione, se la vostra scelta, il vostro dubbio è tra iPhone 6 e Nexus 6, che sono ovviamente due dispositivi molto differenti, dicevo, la scelta tra iPhone 6 e Nexus 6 è il dubbio che vi attanaglia, di certo non saremmo noi a dipanarlo perché la scelta del tipo di terminale è qualcosa di molto, molto personale, sia per gusto che per esigenze di utilizzo. Certamente possiamo fare alcune considerazioni più che altro sulle caratteristiche del software. iOS rimane ancora troppo chiuso, nonostante la minima apertura verso le app di terze parti, ma la dipendenza da iTunes e dai servizi Apple è ancora troppo preponderante, per cui se non avete un Mac l'iPhone 6 non è consigliabile. L'iPhone 6 però è un ottimo telefono con cui poter chattare, navigare, leggere e l'unico su cui ha senso avere il sensore di impronte digitali, perché funziona perfettamente. Ma a dispetto di una parte posteriore veramente bella esteticamente, anche con questi bordi arrotondati che ho apprezzato molto, ricordo anche il display ha verso i bordi uno smussamento che accompagna il display, il design diciamo. La parte anteriore non lo so, mi sembra un po' troppo anonima, è molto molto ampi, le parti molto ampie, i lati corti del dispositivo. Per quanto riguarda Android, diciamo che è esattamente agli antipodi della chiusura di iOS e la sua apertura è proprio una delle caratteristiche principali di questo sistema operativo. Apertura che vuol dire anche semplicemente che durante l'utilizzo quotidiano è molto più semplice, per esempio anche solo condividere, vogliamo condividere una foto, basta scegliere la foto che vogliamo condividere e utilizzare il servizio che più ci aggrada e se non lo abbiamo, andiamo a cercare sul Play Store, lo possiamo condividere in maniera veramente estremamente semplice. Questo giusto per fare un esempio. Google con il Nexus 6 però secondo me è andata troppo oltre nelle dimensioni e per il prezzo, veramente sarà sicuramente a chi piace il display molto grande. Io sono fra quelli però vi assicuro che utilizzare il Nexus 6 non è affatto semplice. L'utilizzo con una mano non si prende neanche in considerazione perché è praticamente impossibile. Bisogna sempre e solo utilizzarlo con due mani, quindi la scelta è un po' ostica, vi devo dire la verità, se vi dovessi consigliare il Nexus 6 non saprei perché poi d'altro canto è un terminale con Android 5.0.1 Lollipop che è una vera scheggia, se volete provare l'esperienza di Android puro è un Nexus quello che dovete acquistare. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di techandroid.it a tutti i lettori di techandroid.it